Questa è la settima edizione della Rassegna Creare Paesaggi. Nel 2000, quando abbiamo iniziato a progettarla, era appena stata firmata la Convenzione Europea del Paesaggio, che oggi è ratificata da 38 Stati europei e delle leggi del nostro Stato. La Convenzione Europea sposta l'attenzione dalla conservazione del paesaggio anche alla sua creazione, alle politiche attive, e dice che ci si deve occupare di tutti i tipi di paesaggio, da quelli naturali, a quelli agricoli, a quelli urbani, periurbani, persino quelli degradati. Allora, questo è un aspetto importante, anche difficile, rispetto alla nostra cultura del paesaggio che è più abituata alla conservazione. Su questo in Italia abbiamo una forte tradizione. Allora, affrontare invece un paesaggio difficile come quello urbano richiede più progetto, richiede anche strumenti più innovativi, anche variegati, multisettoriali. Allora, è una sfida che richiede approfondimento, richiede confronti, e per questo una rassegna internazionale come Creare Paesaggi può essere il luogo in cui osservare le esperienze estere e poi riflettere anche su quello che possiamo fare noi qui nel nostro contesto. Lo facciamo infatti attraverso tavole rotonde, attraverso un convegno internazionale, attraverso visite guidate per decodificare il paesaggio urbano, e lo facciamo affrontando le diverse scale della progettazione del paesaggio, quindi da quella urbana, addirittura metropolitana, più affina agli strumenti della pianificazione, fino ad arrivare all'intervento puntuale, effimero, l'intervento artistico persino, che modifica non tanto i luoghi quanto la loro percezione. Allora, tutto questo ventaglio di strumenti integrati tra di loro, se c'è una visione che si basa su anche l'identità dei luoghi e anche su quello che la comunità locale vuole per il proprio paesaggio, può essere un ventaglio di azioni su cui riflettere e questo è lo scopo della Rassegna.